I cittadini di Sciacca e degli altri comuni chiamati al voto per le amministrative dovrebbero recarsi alle urne l'11 giugno, una data quasi del tutto ufficiale. Il giorno è stato scelto al Viminale dal ministro dell'Interno Marco Minniti per lo svolgimento delle consultazioni che porteranno all'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni delle regioni a statuto ordinario chiamati al voto. Essendo la Sicilia una regione a statuto speciale, la data scelta per le elezioni amministrative potrebbe essere quindi un'altra, ma l'assessore alle autonomie locali Luisa Lantieri ha già dichiarato al quotidiano online Live Sicilia l'intenzione che la regione ha di uniformarsi alla data fissata dal Governo nazionale. Procederemo a fissare la data con una giunta breve, fin qui abbiamo atteso il Governo nazionale perché nostra volontà è uniformarci al resto d'Italia, ha spiegato l'assessore Lantieri, manca quindi l'ultimo passaggio per l'ufficialità della data. L'eventuale ballottaggio si svolgerà il 25 giugno. Sono 11 in provincia di Grigento i comuni nei quali si voterà Sciacca, Cattolica Eraclea, Montallegro, Lampedusa, Linosa, Bivona, Castel Termini, Campobello di Licata, Santa Margherita Belice, Comitini e Villa Franca Sicula.